L'emendamento approvato dalla prima commissione che avrebbe dovuto portare i contratti dei precari negli enti locali con un minimo di 24 ore non è stato inserito nel maxemendamento approvato dalla commissione bilancio dell'Arsi. Una notizia che ha allarmato e non poco i precari del comune di Racalmuto. La speranza adesso è che venga inserito dall'Assemblea regionale. E per spingere verso questo senso l'Assemblea regionale si sono registrati diversi interventi. I primi a lanciare l'allarme, i consiglieri di Racalmuto prima di tutto, che esprimono tutto il loro disappunto per la mancata approvazione avendo sollecitato sino alla fine molti componenti della commissione per il suo inserimento nel maxemendamento. Noi non demordiamo, affermano, e sin da subito abbiamo contattato tutti i gruppi politici e i singoli deputati regionali per far votare l'emendamento direttamente in aula. Poi il sindaco Emilio Messana, la Giunta e il Consiglio Comunale tramite un documento approvato all'unanimità rivolgono un appello alle istituzioni regionali affinché modifichino la legge regionale che impone nei comuni in riequilibrio finanziario la proroga dei contratti con riferimento alle ore dei contratti in corso al 31-12-2014, quando Racalmuto i rapporti erano a 18 ore. Il documento riprende l'appello che il sindaco Messana aveva indirizzato a gennaio alle istituzioni parlamentari e di governo regionali e evidenzia la peculiarità della posizione dei precari nei comuni di Racalmuto che rischiano di essere i soli in tutta la regione a essere penalizzati da una norma assurda e iniqua. Abbiamo inoltrato l'appello votato dal Consiglio Comunale al presidente dell'Arsi, Giovanni Ardizione, afferma il sindaco Messana e siamo impegnati affinché possa trovare la giusta attenzione. Ad intervenire anche una precaria di Racalmuto, Yolanda Salemi, che in una lunga nota rappresenta tutto lo sconforto dei precari per questa notizia, ma anche la rabbia di sentirsi presi in giro dei politici che hanno rassicurato una soluzione positiva, una presa in giro che dura 25 anni. Adesso, come ultima angheria, conclude Yolanda Salemi, a causa di una legge frettolosa che crea disparità di trattamento, ci lasciano a 18 ore settimanali, mezzo orario, quindi mezzo stipendio, quindi si può campare solo mezzo mese. Noi siamo l'ultima generazione che vive a Racalmuto. Pochi avranno la possibilità di vivere e lavorare in questo paese, che è destinato a chiudere.